Tra poco più di 12 ore si spalancheranno le porte del nuovo centro commerciale Blue Garden in Viale Rovereto a Riva del Garda. Dopo anni di proposte, dibattiti e scontri, la realizzazione del più grande parco commerciale del Trentino è realtà. Il nuovo centro si preannuncia come un luogo originale e adatto a tutti i gusti, una struttura innovativa, tecnologica e all'avanguardia. La sua superficie è di 11.000 metri quadri, i negozi sono 44 e sono disposti su tre livelli. Blue Garden, nel cuore di Riva, si appresta a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la popolazione e per i turisti. Il centro è dotato anche di una grande terrazza panoramica sul lago e di Sport Park, un'area dedicata al divertimento, attrezzata per gli amanti dello skateboard e dei rollerblade. Sono circa 200 i nuovi posti di lavoro che si sono creati e molti sono i marchi inediti per Riva. Tra le novità, un punto vendita della catena Sarni-Gioielli e Salmoiraghi e Viganò, occhiali da sole e da vista. Si è allergata anche la proposta di strutture di vendita dedicate all'abbigliamento, con l'arrivo del marchio Rinascimento e di Tally Whale. È presente poi un grande punto vendita della Coop e un nuovo grande negozio marchio Cisalfa, circa 700 metri quadrati di vendita al pubblico, dedicati in particolare agli sport acquatici. Hanno aperto anche la catena di abbigliamento Piazza Italia e la Lindt, azienda multinazionale specializzata nel settore della produzione di cioccolato, e due nuovi negozi di scarpe, uno dedicato al marchio Asics Tiger, il secondo della catena piemontese Contè Scarpe. A completare la panoramica, la vasta area dedicata alla ristorazione, che sazierà i palati più diversi con ristoranti a chilometro zero e cucina etnica. Un momento importante che, nelle intenzioni della proprietà e degli operatori che vi lavoreranno, attirerà clienti da varie zone del Trentino. Uno dei centri commerciali più grandi del Trentino apre in un momento in cui in realtà diverse attività commerciali stanno chiudendo. In che modo ha intenzione di rapportarsi Blue Garden, appunto, nei confronti di questo momento? Con semplicità e con capacità imprenditoriale, come è stato poi il progetto fin dalla sua origine, è nato come un'idea, è poi diventata una sfida, si è sviluppato fino a creare la realtà commerciale che vedete, che, permettetemi di dirlo, è di tutto rispetto. E quale strada intendete intraprendere, soprattutto in questo periodo natalizio, per cercare di attirare clientela verso il centro commerciale? Dunque, abbiamo la collaborazione di un'agenzia primaria italiana e, a parte l'evento di oggi, che è per far conoscere agli operatori e alle autorità il centro, poi da qui a Natale, partendo dal weekend del 5-6 dicembre, animeremo con varie attività il centro commerciale per tutti i weekend fino al giorno di Natale. Il centro commerciale è di una proprietà privata, che è la LAPE SRL, quindi Miorelli Pederzolli, ma è anche grazie al sostegno della provincia, se appunto la struttura è stata ultimata e se domani appunto riuscirà ad aprire. Abbiamo fatto quello che è normale fare, spesso viene descritto come straordinario, ma accompagnare, stimolare, facilitare il privato che investe, cercare di abbattere qualche barriera burocratica, assecondare delle esigenze di chi ha bisogno di lavorare con la clessidra che scorre. È il dovere di una buona amministrazione, io credo che di fronte a imprenditori coraggiosi, intraprendenti, la provincia in questo caso lo ha dimostrato, ha saputo essere sempre alleata, perché abbiamo bisogno che si tornano a movimentarsi, gli investimenti privati, perché non ci sarà crescita se tutto viene demandato al pubblico. Come ha ricordato prima, Blugadem rientra in un triangolo, che è il triangolo composto appunto dal nuovo centro commerciale, dal Dulac e dal cartiere del Garda. Ma in questo luogo io credo che si componga un paradigma virtuoso di quello che è l'Alto Garda, mette assieme l'eccellenza mondiale, internazionale del lago, del turismo, dell'affaccio su questo paesaggio irripetibile, qui si è realizzato l'investimento che aggrega imprese del food e del commercio e poco più in là una grande industria manifatturiera internazionale che si è rinnovata anche dal punto di vista ambientale, pulsa e crea lavoro e innova. Io credo che raramente davvero riusciamo ad avere in altre parti del Trentino, in un angolo di strada, tre espressioni di un sistema economico che credo sia così forte e produca anche così tanta coesione proprio perché non vive con invidia e con contrapposizione a questi diversi modi di fare economia, ma stringe appunto un patto di alleanza.